Ciao tifosi, finalmente inizia questo nuovo campionato di Serie B che dovrebbe avere proprio la squadra del rosa-nero tra le maggiori protagoniste. Il nostro obiettivo è ben diverso rispetto alla stagione scorsa e quindi si punta in alto, si punta ad andare in Serie A. Ancora la squadra è da completare, la società si sta muovendo in questo senso, quindi il mercato è aperto e vedremo se arriveranno altri nuovi giocatori. Detto ciò, la stagione del Palermo è in verità già iniziata con la parte di Coppa Italia, una partita che il Palermo ha giocato molto bene contro il Cagliari, ne ho promosso in Serie A e invece la prima partita di Serie B ci vedeva contro il Bari. Bari è anche lui una delle squadre che dovrebbe essere tra le protagoniste e giocavamo in casa loro. La formazione che affrontava il Bari era la seguente, era composta da un 4-3-3 con in Porta Piacelli, in difesa a destra Mateju, a sinistra Cercaroni, centralmente Lucioni e Marconi, a centrocampo Gomez-Stulac-Vasic in attacco unica punta a Brunori, a destra Insigne e a sinistra Di Mariano. Dunque, una partita che è stata ricca sicuramente di cartellini, sia gialli che rossi, e dove è successo di tutto soprattutto nel secondo tempo, perché il primo tempo alla fine sì, si è partiti forte perché dai primissimi minuti il Bari si era trovato davanti a Piacelli, che è stato bravo a uscire con il tempismo giusto, e poi nella ripartenza immediata il Palermo ha rischiato di fare gol con un tiro dalla distanza di Vasic, che il portiere del Bari non riesce a trattenere bene, questo padone gli scappa, sbatte sul palo e poi riesce a riprenderlo. Poi c'è stata qualche occasione, c'è stato un tiro da fuori di Brunori, con un'azione personale, un tiro di Cercaroni, e il Bari si è trovato più volte con giocatori soli in area di rigore a tirare quasi a botta sicura verso Piacelli, per fortuna nostra non hanno centrato lo specchio della porta, ma a mio avviso il Bari, nel primo tempo, levando i minuti iniziali, ha giocato meglio. Questo è un mio parere personale. Il Palermo aveva un po' stesso palla sterile e non riusciva ad offendere, secondo me, nel giusto modo. Andiamo al secondo tempo, perché è lì dove la partita cambia completamente. Innanzitutto arriva, dopo pochi minuti, il fallo di Maita su Vazic. Un fallo che, vedendo il replay, sembra molto brutto e io ero molto preoccupato anche per Vazic, perché il movimento che si vede della caviglia, insomma, faceva abbastanza impressione. Per fortuna, Vazic si è ripreso. Maita inizialmente ammonito, poi invece l'arbitro, Maresca, va a rivedere il tutto e lo espelle. Quindi, Bari, dopo pochissimi minuti del secondo tempo, si trova a giocare la partita con un uomo in meno. Quindi, bruttissima botta da parte della squadra di casa. E il Palermo, comunque, incomincia a offendere. Naturalmente, il Bari, dopo questa espulsione, attacca, ma nei modi moderati. Il Palermo, invece, ci prova. Ci prova mettendo palle dentro. E arriva un episodio dubbio su Brunori, una trattenuta da parte del loro terzino sinistro di cui mi sfugge il nome. La maglia si allunga in maniera palese, non viene dato il rigore, non viene neanche vista al VAR. Situazione abbastanza paradossale. Però, qualche minuto successivo, arriva una situazione simile, dove un pallone viene svirgolato da un giocatore del Bari. Il pallone prende una traiettoria molto strana, arriva però verso il nostro bomber Brunori e Di Cesare gli allunga la maglietta, lo strattona e Brunori cade per terra. Non ha modo di intervenire. Inizialmente, Brunori viene ammonito per proteste, poi invece Maresca, tramite il VAR, va a rivedere il tutto. Di Cesare era già stato ammonito, seconda ammonizione, espulsione. Il Bari, addirittura, si trova a giocare con due giocatori in meno. Quindi, incredibile questa situazione. Viene dato il rigore, va a battere Francesco Di Mariano, che in precedenza aveva battuto. Ricordiamoci che la stagione scorsa Brunori ne aveva sbagliati quattro, forse addirittura di fila. E' arrivato Di Mariano, che ha sostituito da questo punto di vista il nostro bomber per quanto riguarda i calci dal dischetto. Va Di Mariano, va Di Mariano, ma calcia malissimo. Perché calcia forte, ma praticamente spedisce il pallone in tribuna. Vava spiazzato il portiere, ma ha calciato troppo forte. Quindi si rimane sullo 0-0. Occasione incredibile da parte di Di Mariano, che non riesce a sfruttare. Occasione che forse condizionerà la sua partita, uscirà poi poco dopo. E quindi giustamente dopo questa situazione cambia nettamente la partita. Il Bari leva attaccanti, mette gente fresca per difendere meglio la propria area di rigore. Dall'altra parte invece Corini butta di tutto. Entra Soleri, entra Mancuso, Valente a posto di Insigne, Buttaro. Entrato a posto di Marconi, che era ammonito. Corini grossomodo ha cercato di togliere tutti gli ammoniti, visto che oggi Maresca era veramente pronto a sollevarlo in qualsiasi momento. Quindi meglio togliere gente a rischio. E io dico subito ragazzi che la catena di destra era un'altra cosa. Matteo e Insigne non sono assolutamente paragonabili a Buttaro e Valente. Quando entrano a Buttaro e Valente, poi magari voi mi direte. È normale? Erano freschi? Erano appena entrati? Sì ok, ma a livello di vivacità nella zona offensiva, secondo me non c'è storia. Buttaro correva tutto il tempo, cercava di mettere palloni interessanti. E mi ha anche sorpreso, perché forse è migliorato. Prima non crossava così bene dentro l'area di rigore. Valente, cercava di saltare l'uomo. E anche lui metteva palloni dentro. Purtroppo Spenso sbagliavano. Questi palloni dentro venivano messi troppo bassi. Anche dall'altra parte era Saric, anche lui entrato in corso d'opera, che cercava di mettere traccianti dentro, ma erano anche questi bassi. Ora io dico, avevamo a un certo punto 3-4 attaccanti dentro l'area di rigore. Avevamo pure i difensori. Perché mettere questi palloni bassi? Ma alzatela sta palla. Una scelta che mi ha un po' lasciato perplesso. Però poi arriva il gol. Ebbene sì, perché mi è dato un corposo recupero di 8 minuti, come era stato dato nel primo tempo. E poi arriva il gol. Arriva il gol proprio nei minuti finali del recupero, con una situazione un po' rocambolesca, in cui Gomez fa una cosa molto bella, ragazzi. Bisogna dirlo, perché l'abbiamo criticato, magari non tutti, per il fatto che veniva usato come regista, di lanciare questi palloni dentro la rigore. Non è, insomma, il suo. Lui è bravo a rompere il gioco, ad aggredire, a portare avanti il pallone, non a fare il regista. Però in questo caso, ragazzi, è lui a creare la situazione, perché lancia un pallone morbido verso Buttaro. Buttaro la mette dentro, poi situazione rocambolesca, e il pallone entra in rete, esulta a Brunori, quindi il gol l'ha fatto. Il nostro bomber, Brunori, purtroppo però, la situazione non è ben chiara. Buttaro è in posizione regolare, ma Brunori potrebbe essere, invece, in situazione di offside. Quindi, situazione che viene valutata a VAR, e poi viene dato il fuorigioco. Quindi, fuorigioco dato, dubbio, bisogna dirlo, un po' dubbio, però, forse un ginocchio è oltre, questione veramente di pochissimo, e quindi il gol del paderno viene annullato. Curioso il fatto che, dopo il gol, si stava per riprendere il gioco, e si sta fermi un altro po' di minuti. Non si è capito bene il perché. Però sa di fatto che poi la partita va avanti, e finisce 0-0. Occasione sciupata dalla squadra di rosa nero, perché affrontavi una diretta concorrente, per la salita in serie A, giocavi in casa loro, giocavano con due giocatori in meno, e non si è riuscito a buttarla dentro, o meno o meno, cioè, è riuscito, te l'hanno annullato, insomma. Non si è riuscito a creare, perché poi alla fine, ragazzi, pensiamoci, non abbiamo creato poi così tante occasioni difensive. Scusatemi, occasioni offensive a livello di tiri, ora io non mi sono messo a guardare le statistiche, però, insomma, non è che abbiamo attaccato per così tanto. Fino all'espulsione, e forse anche in parte un po' dopo, a me non è che mi stava piacendo come stavamo giocando. Però, magari quelle espulsioni potevano dare quella verba in più ai giocatori, per cercare di agguantare il risultato. Però ho notato una certa fretta nel voler andare in rete. Infatti, spesso si sbagliavano palloni elementari, elementari, oppure quando si doveva mettere il pallone dentro, si sbagliava. Quindi, poi dobbiamo trovare un tiratore sui corner, ragazzi, perché, cioè, sempre bassi sul primo palo, ma perché? Non riesco a capire. Quindi, a conclusione di tutto, partita che sicuramente ci lascia la mare in bocca, perché è un'occasione enorme quanto una casa, buttata nel cestino, come già vi ho detto in precedenza. Perché questi tre punti potevano essere molto pesanti, soprattutto anche per com'era andata la partita. Rimaniamo con un punto. Il campionato appena iniziato è lunghissima, è lunghissima. Quindi, non è il momento di accusare nessuno, e di iniziare con le critiche. Siamo all'inizio, deve ancora arrivare gente nuova, e io spero che Corini si renda conto che, soprattutto la catena di destra, c'è qualcosa da cambiare. Insigne per me è un giocatore insipido, per il momento, poi magari mi ricrederò. Ora, è vero, Insigne è venuto, ha fatto benissimo col Frosinone, è giusto che giochi titolare, ma se non convince facciamo giocare valente, che quando entra fa sempre bene. Al massimo, Insigne magari entra in corso d'opera, voglia di mettersi in mostra, e gioca meglio, perché così non abbiamo dove andare. Buttaro anche lì. Mateio, Mateio lo vedo troppo sulle gambe. Vedo sempre difficoltà quando deve cercare di difendere. Mettiamo Buttaro, è più giovane, ha più gamba, perché quando troviamo poi dei giocatori offensivi così veloci, come Sibili in questo caso, anche contro il Cagliari, lo Vumbo, Mateio non ha dove andare. E viene anche poco aiutato, da quella parte, perché da quella parte, se non erro, c'è Vasic, che è più offensivo, per non parlare di Insigne. E per quanto riguarda poi il resto, ragazzi, non mi sofferberò su ogni singolo giocatore, ma è una prestazione nel complesso che, secondo me, è difficile da valutare, perché non abbiamo attaccato tantissimo in porta, abbiamo rischiato, è stato bravo Piaccelli, mi sono dimenticato di dire, in più di un'occasione ha fatto parate importanti coi piedi, però noi in attacco non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. C'era veramente tanta gente a un certo punto dentro l'area di rigore del Bari, ma i palloni arrivano dopo tanto tempo e arrivavano male. Quindi, sicuramente c'è da migliorare da questo punto di vista. Detto questo, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questa partita, sicuramente sarete amareggiati, cosa ne avete tratto da questa prestazione, fatemelo sapere con un commento, lasciate un mi piace per supportarmi, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, io vi rimando al mio prossimo video, naturalmente, sempre, Forza Palermo. Ciao tifosi!